bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi faremo di nuovo l'esperimento sociale della sigaretta e proviamo ad arrivare ai 40 like e niente buona missione scusi ho una sigaretta grazie scusi ho una sigaretta no, grazie scusate avete una sigaretta? no, non fumiamo ah mi spiace scusi, ho una sigaretta si, buonasera, la sigaretta potrei fare con sigaretta eh, devo fumare la sigaretta di cui ce l'ho, la vuoi? no, no, quella vera, vera dai, va, no, lascia prendere le sigaretta scusi, ho una sigaretta scusi, ho una sigaretta? no no, grazie scusi, ho una sigaretta? come? una sigaretta che sigaretta? ma la la, io ho smesso 30 anni ah, scusi, ho una sigaretta? no, no no, grazie no, grazie grazie